Ciao a tutti, sono Elena, l'istruttrice di kickboxing della Supreme Fighting Team e oggi insieme a mio figlio Davide vi mostreremo alcune tecniche indirenti da kickboxing. Ma prima iniziamo a conoscere cos'è la kickboxing. Davide, cos'è la kickboxing? La kickboxing è uno sport di combattimento dove si usano tecniche di pugni e di calci. E dove si svolge la competizione? Sul ringo e sul tatame. Ma quando tu sali sul ringo o sul tatame in palestra puoi fare tutto quello che vuoi? No, perché ci sono delle regole. Ci sono delle regole che vanno rispettate. E la regola più importante che noi usiamo in palestra, quella non scritta ma che vi diciamo sempre, qual è? Che le cose che si imparano in palestra non bisogna rifarle da nessun'altra parte, almeno che non doviate farle a casa per allenarmi. Bravissimo Davide. Il primo esercizio che andiamo a fare oggi, come riscaldamento, è il salto della corda. La corda è un esercizio adatto a tutti. I codi hanno gambe e braccia che sono in costante movimento. Forza Davide, saltelli a piedi pari. Bravissimo. Ancora. Uno. Bravissimo. La galoppata. Ottimo. Ancora due saltelle a piedi pari. Il secondo esercizio che andiamo a proporvi è il palleggio con la pallina in guardia. Piedi in guardia, vuol dire uno davanti all'altro, palleggio con la pallina internando le mani e mi muoio in guardia, quindi tenendo sempre gli stessi piedi in avanti. Sono tutti esercizi che vanno a sviluppare quella che è la coordinazione e l'equilibrio nel bambino. Complettiamo l'iscaldamento con un esercizio di tocco spalla o tocco coscia. La parte del riscaldamento è terminata, adesso entriamo proprio nel vivo della kickboxing. con la parte tecnica. Davide, ci fai vedere quali sono gli strumenti che usa un'atleta di kickboxing? Cosa abbiamo qua? Abbiamo il caschetto e abbiamo i guantoni. Adesso li indossiamo. Adesso Davide può proporre alcune tecniche a brassaglio. Movimento Davide, Jeb. Chiuditi bene, Jeb, Jeb diretto, Jeb diretto, Jeb diretto, Jeb diretto, gancio. Jeb diretto, gancio, calcio. E bravissimo Davide, su. Ancora. Ok, calcio frontale. Ok, ancora calcio frontale. Lo kick, chi rispoguardia, gira bene il piede, vai lo kick. Bravissimo. Ancora, Jeb diretto, gancio. E via. Ancora. Jeb diretto, gancio. Lo kick. Jeb diretto, gancio. Lo kick. Bravissimo. Chiuditi. Il prossimo esercizio che vado a proporvi, ed è l'ultimo, è un esercizio di defaticamento. In posizione di guardia, cerco di boxare portando il pugno avversario, cioè cerco di colpire la pallina che è legata a un elastico alla testa. Bravissimo Davide, muoviti bene, sulle punte. Bravo, torna sempre in guardia, con le mani. Stop. Il nostro allenamento è terminato, spero che vi siate divertiti e che abbiate imparato qualcosa sulla kickboxing. Ciao a tutti. Ciao. Ciao.